È nata da padre fotografo di nazionalità statunitense e madre titolare di un'agenzia di comunicazione, appassionata di cinema. Inizialmente lavora nel settore della moda, dove molte case la lanciano come testimonial. Nel mentre frequenta il liceo scientifico e una volta finito si trasferisce a New York, dove frequenta il suo primo corso di recitazione. Torna a Milano per studiare psicologia e conosce Michael Rogers, con cui continua la sua formazione. Nel 2012 gira il suo primo film, non ancora uscito nelle sale, Azzurrina, per La reggia di Giacomo Franciosa, seguito dall'ultima ruota del carro, diretto da Giovanni Veronesi. Ma ecco la serie televisiva fuoriclasse, nella quale interpreta Barbara Pinaider, che arriva la popolarità, per il grande schermo. Tra gli altri, gira, Mi chiamo Maya, opera prima di Tommaso Agnese, in cui è la protagonista femminile. L'universale, opera prima di Federico Michali, Rins, reboot Paramount del noto film Moror con Naomi Weitz, The Ring, e l'estate addosso, reggia di Gabriele Muccino, presentato in anteprima al Festival di Venezia 2016 il 31 agosto.